Oggi parliamo dell'FSD in Europa, ci sono novità, poi parliamo della Giga Berlin che riprende la produzione e una funzionalità dell'ultimo aggiornamento che era passata inosservata. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla, poco prima di partire per il Texas per la spedizione Cybertruck avevo fatto una puntata direttamente dall'albergo di Roma in cui vi parlavo della possibilità che FSD arrivasse in Europa in tempi relativamente brevi perché è stata effettivamente redatta la bozza che doveva essere discussa per la regolamentazione della sperimentazione della guida autonoma in Europa. Vi avevo detto che molto probabilmente non sarebbe stata presa in considerazione nella discussione dell'Unece di marzo, ma quindi sarebbe slittata a giugno per la futura approvazione, ma effettivamente è stata inserita proprio nella discussione di marzo. Che cosa significa? Andiamoci piano. Significa che se la bozza verrà accettata o avrà comunque minimi cambiamenti potrebbe essere approvata entro settembre, ma calmiamo gli animi. Non vuol dire che l'FSD beta arriverà o potrà arrivare in Europa a settembre perché ci sono comunque altri passi da fare. Innanzitutto questa è una regolamentazione europea che deve essere recepita dagli stati o comunque dagli stati che vorranno procedere con la sperimentazione e poi ovviamente c'è sempre il lato Tesla perché non è che si può prendere il software americano, tra l'altro se volete vedere le ultime prove vi lascio qui sopra proprio quelle che ho fatto settimana scorsa a Austin. Dicevo non è che Tesla può prendere il software americano, metterlo su una macchina europea e tutto funziona. Le regole sono diverse, le strade sono diverse, i cartelli sono diversi, Tesla deve cominciare a usare le simulazioni per insegnare al sistema a guidare in Europa. Io immagino che Tesla abbia già cominciato a farlo da tempo, però ovviamente la cosa va affinata. Io, sempre speculazione mia personale, io farei così, comincerei magari da uno Stato che ha una viabilità più semplice, meno densa, mi viene in mente per esempio la Norvegia, tra l'altro che ha una enorme flotta, ecco magari non d'inverno che c'è la neve, magari più verso primavera, cominciando da lì poi potrà espandersi arrivando anche magari in Italia. Chi comincerà la sperimentazione? Beh, come sempre è stato, ovviamente prima i dipendenti Tesla. Quindi comunque è una buona notizia e non ci resta che aspettare la discussione di marzo per capire se effettivamente questa bozza, questo testo potrà essere approvato entro quest'anno. Giga Berlin, vi avevo detto tempo fa, tre settimane fa, che la fabbrica di Berlino avrebbe chiuso per due settimane a causa delle tensioni che ci sono nel Mar Rosso proprio perché le navi che arrivano con i rifornimenti di materiale, di materie prime, di pezzi, dovevano fare il giro lungo, quindi anziché passare da Suez dovevano fare il giro di tutta l'Africa. Bene, Tesla ha ripreso la produzione a Berlino perché il manager proprio della fabbrica ha dichiarato che non ci sono più problematiche di approvvigionamento di materiali. tra l'altro vi ricordo che poco prima della chiusura Tesla ha raggiunto a Berlino le 6.000 unità a settimana e ora l'obiettivo diventa 10.000 unità a settimana. Nelle ultime puntate abbiamo parlato a più riprese dell'aggiornamento 2024.2, io ancora non l'ho ricevuto, ma c'è una funzionalità che è passata inosservata ed effettivamente non è presente nelle note di rilascio, quantomeno non mi risulta. È una funzionalità che può risultare comoda. In cosa consiste? Quando noi scendiamo dalla macchina, lato guidatore, e ci portiamo via il telefono che è la nostra chiave dell'auto materialmente, dopo qualche secondo l'auto si chiude, anche se lasciamo in auto qualcuno. Ovviamente ci sono dei modi per evitare che la macchina si chiuda, ma mettiamo caso che ci siamo dimenticati. Oppure che le persone che effettivamente sono in auto si vogliano chiudere dentro per qualsiasi motivo. Quando qualcuno si avvicina all'auto, e non ha la chiave ovviamente, altrimenti si aprirebbe normalmente, e prova ad aprire con la maniglia, sullo schermo appare un messaggio contestuale che chiede se sbloccare o meno l'auto. Questa è una funzionalità in più, può essere utile, può non essere, diciamo che è più d'impatto per chi magari rimane in macchina, comunque è sempre una cosa in più che viene aggiunta al software. E ora per concludere non devo salutare nessuno, o meglio, devo ringraziare tutti voi, vi faccio vedere un numero in stile Bjorn, abbiamo già superato questo numero anche di un bel po', quindi non mi resta che ringraziarvi davvero tanto per il vostro supporto. 10.000 è un numero che comincia a essere interessante, sapete che io non conto tanto su questi numeri, però devo dire che è sicuramente un bel traguardo. E per festeggiare, domenica sera ci siete, non prendete impegni, ci facciamo una bella live in cui potete chiedermi quello che volete sul Cybertruck e sull'FSD, quindi sul viaggio in Texas. Se avete curiosità scrivetevele e ci vediamo domenica sera intorno alle 9.30, più o meno, 21.30. Vi aspetto e mi raccomando. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!